Ok ragazzi, sto per cominciare lo strem, dato che dopo la live mi metto a vedere i meme vi prego di non pubblicare porno, tutto chiaro? Molto bene, ci vediamo dopo la mia live di ocarina di Zelda 2 Vodaloo elettrico. Ehi ragazzi guardate quante immagini poco cattoliche di mago che ho trovato. No Ad, non farlo, pensa ai bambini. Per l'amor di dio non pensare ai bambini. Ravioli ravioli tempo di raff dare la madot slowly. Vede bucchina mamma. E' tempo di bannare la merda. Oh cazzo scusa non volevo. Tutto a posto? Sisi tranquillo. Oh, ok. Dove ero rimasto? Oh giusto. E anche oggi ho fatto pulizia di plar con memes. Ma fri, siamo nella taverna. Mannaggia è la madre. Oh 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 oh